Noi parliamo, ho sentito l'introduzione dei precedenti consiglieri, relazionisti, dove parlavano sempre di PNR. Noi come RIB ci stiamo ponendo il problema, perché come diceva il dottor De Felice prima, il PNRR è per l'Italia un'opportunità incredibile. E' ripresa e resilienza, ripresa perché l'Italia ha navigato negli ultimi anni, almeno da quando io ho capacità di intelleggere, un pochettino è stata sulla linea di galleggiamento, ma è troppo alto ma neanche troppo basso. E l'italiano medio, bene o male, ha sempre questa capacità di arrangiarsi. Però questa pandemia che ha fiaccato, che ha colpito duramente tutti quanti, tutti i settori, ha portato anche, secondo me, diverse riflessioni da fare. E l'ambito europeo, soprattutto questa, dicevamo, ripresa e resilienza, può essere veramente uno speed per l'Italia e nel nostro settore per la parte, chiamiamola così, construction, come dicevamo prima. Quali sono gli obiettivi chiave? Qui vediamo che è contribuire a affrontare le debolezze strutturali dell'economia, riparare i danni economici e sociali alla crisi pandemica e raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale. Questi sono i tre pilastri su cui si basa una prima parte del PNR. Io vorrei andare però velocemente, perché alcune figure sono già state, i numeri sono già stati dati, questi 235 milioni sono il cosiddetto, diciamo, ammontare che l'Italia potrebbe ottenere. Di questo sono 191 miliardi, come vedete, suddivisi in sovvenzioni quasi 70 miliardi e 122 milioni di prestiti, che, andando sempre avanti, quello che interessa a noi su questi sei pilastri, le infrastrutture per la mobilità e sostenibilità. Soprattutto, vedremo nella slide successiva, c'è una grossissima impostazione, un 50, qui stiamo parlando di 191, questo più avanti, sì, ancora qua. Negli obiettivi strategici ci sono 34,6 miliardi, cioè il 56% che sono destinati al sud, anche perché nella mobilità, nel collegamento nord-sud, sono i valori e gli importi che saranno più dedicati per la connessione. Reti autostradali, reti ferroviarie e opere anche di ammodernamento di ulteriori costruzioni già esistenti. Detto questo, c'è qui un rimescolamento tra digitalizzazione e rivoluzione verde, perché nelle 62 miliardi che noi abbiamo ipotizzato, qui 61,9,79 sono fonti del Ministero dell'Industria, sono quelli che potenzialmente possono essere forieri di osservazione dal punto di vista assicurativo. Qui anche c'è una interconnessione con l'agenda 2030, quindi questa è l'agenda che l'ONU nel 2015 aveva richiesto a tutti i paesi aderenti, tra cui l'Italia, che entro il 2030 c'era questa possibilità anche dello sviluppo sostenibile e anche questa unitamente al PNRR è una possibilità che abbiamo per poter integrare e che le compagnie di assicurazione, a nostro modo di vedere, possono sfruttare e usufruire. Venendo alle aree di intervento, qui ovviamente ci sono estensioni, rinnovi, investimenti, queste sono le principali macro aree di applicazione di applicazione di questi investimenti. Se poi vediamo nello specifico quello che ci comporta per quanto riguarda il construction, alcuni di queste tratte, lo vedrete Napoli-Bari, la Palermo-Cataia-Messina, sono già operative, in quanto qui ci sono degli operatori del settore, sanno già che alcuni appaltatori italiani e anche stranieri, perché non dimentichiamoci che a livello europeo, quindi anche appaltatori esteri potrebbero e potranno sicuramente aderire, quindi è una grossissima opportunità, sia a livello nazionale che internazionale, essere operativi e operatori nel centro. Dica Presidente. Considerando che negli ultimi dieci anni o quindici anni, opere infrastrutturali in Italia sono state molto poche, quindi questo è uno shock, quindi di conseguenza anche il mercato assicurativo, bancario, relativamente a queste grandi, hanno avuto un rallentamento. No, giustamente dicevi lo shock, lo shock e soprattutto la possibilità, perché una volta confermato la fattibilità di questi progetti a livello tecnico, a livello strutturale, e avendo la disponibilità monetaria, che sembra che l'Europa possa dare, è un'occasione imperdibile da sfruttare. Infatti prima, diciamo, dal 2021 al 2026 queste opere devono essere, se non realizzate, perché sono dei milestone imperativi, perlomeno portate quasi a termine. Beh, qui ci sono anche altre estensioni di alta velocità ferroviaria, volevo far vedere che c'è anche il raddoppio Codogno-Cremona-Mantova, che è importante, perché questo l'ha finanziato Curioni, c'è il campus, come? E veniamo a noi, veniamo alle assicurazioni. Quando parliamo di assicurazioni, oltre che coperture assicurative, diciamo, e compagnie di assicurazione, si parla anche di enti finanziari, perché questo riguarda sia la parte assicurativa che la parte riassicurativa. C'è la volontà, la necessità di fare anche dei percorsi di partenariato, perché come si diceva anche prima, ci sono dei percorsi pubblici e privati da poter sviluppare, da poter verificare e valutare assieme. Questo sempre per comunque rilanciare l'economia italiana, perché alla fine il mainstream è quello di darci la possibilità, tutti quanti, di poter adempiere a questo compito. Infatti ho scritto anche il contributo di tutti, proprio perché tutti i player della vicenda devono essere coesi per un fine ultimo. Cosa succede? Ci sono, come qui, abbiamo detto supporto finanziario, ci sono una gestione dei rischi che va oculata, perché c'è una patrimonializzazione in gioco molto importante e focus anche alle PMI. Visto su questi progetti, le PMI sono molto importanti come subcontractors, perché il mainstream sono dei general contractor che possono essere anche stranieri, come abbiamo detto prima, però la professionalità, il day by day molte volte può essere subappaltato dove ci sono anche nel substrato italiano delle piccole e medie imprese che sono veramente forti, veramente focus su questa cosa. Detto questo, sì, qui abbiamo detto c'è sempre il rilancio duraturo dell'economia, ma come si può dire, senza assicurazioni, poi alla fine, perché poi facciamo questo mestiere noi come broker, come intermediari, non si va lontano, anche perché, per fortuna, per tutti quanti qui riuniti, questi lavori, sì, e anche chi ci segue, giustamente, e sai, non sono ancora abituato al video, per chi ci segue, ci sono anche le coperture assicurative, perché l'imponenza, la magnitudo di questi lavori richiede anche delle coperture assicurative che sono basiche, ma nel fatto stesso, per l'importo dei lavori che abbiamo citato prima, stiamo parlando di miliardi di euro, quindi sono veramente numeri mirabolanti. Ci sono le garanzie che sono quelle basiche, partendo dalle fideiussioni, alla polizza career, e con la relativa responsabilità civile, e decennale postuma e responsabilità civile professionale. Questi sono, diciamo, i quattro pilastri su cui tutte le coperture per questi lavori devono avere. Ovviamente, come detto, ci possono essere anche delle coperture cosiddette ancillari, ma che per la magnitudo e per il valore possono avere degli impatti economici sicuramente importanti. Ecco, RIB, RIB Assiceco, si propongono di essere, ovviamente, di aiutare sia clienti e sia le compagnie, quindi a livello assicurativo e riassicurativo, a poter gestire al meglio questo tipo di problematiche. Anche perché lo scenario è sicuramente complicato e complesso. Servono sicuramente la cooperazione e l'aiuto di tutti. E soprattutto, quello che noi diciamo in gergo, la capacità, ovvero sia il supporto, che ovviamente deve essere assicurativo e riassicurativo, e attraverso le nostre strutture, sia a livello nazionale che internazionale, siamo, secondo me, in grado di potervi o di poter dare questi tipi di supporti. Concludendo, perché c'è il caffè e il succo di frutta che avanza, siamo disponibili a qualsiasi domanda, se c'è bisogno di approfondimento, e ringraziandovi per l'attenzione, vi auguro un buon caffè. Grazie.